Figlioso Fred, ma come sono educati? Io pensavo se la tirassero un po', sono arrivati durante il filmato di Fred e mi hanno detto piacere, che piacere, sono gentili, educati. Addirittura! Io pensavo due divi così, dico questi con la... Benvenuti alle Francia! E' scioccato così, adesso si alzano le sue mani. Piacere anche a casa e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Un saluto con educazione a tutti. No, va bene, era veramente un benvenuto, è la prima volta che ci incontriamo e a me fa molto piacere, vi conosco logicamente come vi conoscono tutti gli italiani, è un piacere stare qui con voi. Ma non sono qui soltanto, non è che hanno detto vogliamo andare a conoscere Roberta e Pino stamattina, sono qui perché fino al 27 febbraio sono in scena al teatro Parioli con uno spettacolo che vuole essere un lungo abbraccio in qualche maniera. Va bene detta così, sì, ho trovato delle parole veramente perfette perché così è, un grosso abbraccio dopo due anni che siamo lontani dagli teatri, noi e il pubblico quindi ci si riabbraccia dalla sala al palcoscenico insomma. E poi lo spettacolo ha debuttato se non ricordo male al teatro lirico e poi siete ritornati al Parioli che è un pochino anche la vostra casa. È vero, abbiamo iniziato tanti anni fa con il dottor Costanzo, eravamo proprio agli inizi, quindi mercoledì alla prima eravamo particolarmente, emozionati proprio di rientrare in questo teatro e di rivederlo con occhi diversi dopo tanti anni perché lì eravamo proprio agli inizi, adesso un po' più di esperienza c'è. A proposito di inizi appunto, il titolo è? Cominciamo. Cominciamo. Cominciamo perché volevamo un po' raccontare questo momento, questa attesa, questa voglia di ripartire, di ricominciare, questo momento che ci accomuna tutti perché noi sul palco e la gente sui siamo tutti, abbiamo uno stato d'animo che è comune perché purtroppo questo momento ci avvicina tutti, tutti l'abbiamo vissuto in prima persona, abbiamo sentito racconti, abbiamo avuto, quindi la voglia è di divertire ma anche di divertirci perché abbiamo bisogno anche noi. E non siete soli, insomma sul palco non ci sono soltanto Ale e Franz, Roberta è venuta a vedervi alla prima. Chi c'è Roberta insieme a noi? No, non c'è Roberta. No, non ho detto, chi c'è Roberta insieme a noi visto che è venuta a vedervi? Ah, allora. C'è Luigi Schiavone. C'è Luigi Schiavone, grande, quello che le donne non dicono, però lei lo dice. Lei lo dice, allora dillo tu, quello che le donne non dicono è Luigi Schiavone. C'è Luigi Schiavone. Fabrizio Palermo. È un'orchestra straordinaria. Al basso. Francesco Luppi, giusto? Sì. Alle tastiere, Marco Orsi. Alla batteria. Alla batteria e... Abbiamo una canta... Natascia Fonzetti. Natascia Fonzetti, che ha una voce pazzesca, oltre a recitare benissimo, ha una voce... Perché voi avete fatto anche la cosa bellissima di questo spettacolo, lo dico poi, smentitemi se potete, è perché non solo si ride tantissimo, cioè sono tre sketch, tre lunghi sketch in cui davvero non si smette mai di ridere. Ci si riflette, ma c'è della musica d'autore e voi cantate anche bene, 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 oltre Natascia con una voce pazzesca. Basta tenere il volume basso e la musica alta. Non è vero, non è vero. È un trucchetto che funziona. Si senta di più la corista e la cantante che noi, quindi allora. Poi c'è una passione e l'anima del cantautorato, quello vero, che esce proprio profondamente e prepotentemente. Avevamo voglia di ridare al pubblico tante sensazioni che non fosse solo quella della comicità. La musica dal vivo è meravigliosa. È meravigliosa. Poi sentita suonare così, è quello che dice Roberta, noi ci sorprendiamo di questi musicisti ed è la voce di questa cantante che fa di quei... Ma neanche se mi dai una martellata su una mano mi esce una nota così. Riesci a fare dei suoni, ci emozioniamo noi che lo sentiamo tutti i giorni. Ha citato, martellata in una mano. Da qualche parte voi avete detto che questo lavoro è frutto di otto mani. Ma otto mani. Sì, quindi a parte le vostre quattro, le altre quattro... No, perché in realtà noi ci appoggiamo molto e noi è da un po' di tempo che interpretiamo nella parte drammaturgica, quindi nostra drammaturgica. Drammaturgica. Sì, ma non volevo usare paroloni. Drammaturgica. È il nostro lavoro. Diamo voce a delle canzoni di cui ci siamo innamorati, quindi che nascono dalla tradizione di Gaber e di Annacci. E quindi diciamo otto mani, loro non sanno di aver messo le loro quattro. Giorgio, Gaber e Giuseppe di Annacci. Però noi diamo molto spesso voce a dei concetti che poi trovano un'espressione delle loro canzoni. Ci piace quasi dare continuità e quindi è un lavoro otto mani, loro non lo sanno. Ovviamente sono un po' le radici della nostra città, le radici della comicità milanese, quindi noi siamo nati con questo desiderio e con questo, diciamo, in questo territorio. Da bambini guardavamo loro e adesso ci piace pensare. Ci piace trasmettere queste cose ai più giovani. Che è una cosa fondamentale, la memoria. Noi da questo nostro programma insistiamo moltissimo sul fatto che siamo un paese che in genere tende a dimenticare, a non guardarsi mai alle spalle a chi ci ha preceduti. Per cui è bellissimo questo fatto che voi dedichiate una parte dello spettacolo o comunque un'ispirazione vi arrivi da Gaber e i Annacci che sono stati due punti di riferimento straordinari. Nello spettacolo prima facevamo una cosa presa da una rivista di Walter Chiari, che noi abbiamo tutto riadattato ed è bello quasi come fosse un'eredità culturale, no? È ovviamente tutto fatto a 2.0, però è bello, a parte avete una scrivania che è meravigliosa. Sì, è bellissimo, se voi da casa non la vedete, no è meravigliosa perché è proprio un concerto di idee. Ah, mentre tu parli della scrivania, chi è a casa ha visto delle immagini dello spettacolo, vedeva i musicisti. Anche noi le abbiamo viste perché non le abbiamo mai viste noi da giù. Ma adesso ti faccio vedere anche qualcosa. Te ne facciamo rivedere. Ti ricordo anche che il 3G è di Alberto Ferrari. A cui dobbiamo tantissimo. Esatto, e salutiamo. Che è anche autore insieme a voi. Antonio De Santi. Ma è vero che è stato scritto tutto via Skype? Eh sì, perché c'era il corso. Forza. E avete qualche aneddoto divertente che potete raccontare di questa scrittura a otto mani via Skype? Sì, fermi immagini, quando non capivi se uno stava pensando o se era fermo. Esatto. Si era frizzato il video. Al quarto minuto dicevi, ma donna Ale, deve avere un'idea. Perché io a quattro minuti che è in silenzio, fermo così che pensa. Invece poi... Vigliannacci, Gabber, avete citato Walter Chiari. Vabbè, potremmo stare qui a parlare. Esatto, possiamo citare anche Giorgio Streller perché abbiamo una canzone sua che è Mami. Ah, meravigliosa. E quindi citiamo anche il maestro Streller. E ieri abbiamo fatto una cosa, è una delle prime volte che lo facciamo. Abbiamo detto alcune parole in italiano perché c'è un'importanza nell'uso dei termini che in quella canzone fa Streller, ma anche in una canzone della libertà di Gabber. A un certo punto raccontiamo le parole perché quando si canta talvolta sfugge, sfugono i concetti. Ma c'è un uso della parola nella libertà di Gabber. Che cos'è la libertà? La libertà non è stare sopra un albero, non è un volo di un calabro. Ma sono davvero delle poesie, togliendo la musica e recitandole avrebbero un impatto, una forza. E l'hanno avuto perché voi l'avete fatto e l'hanno avuto. Ed è una cosa bellissima che il pubblico canta, partecipa. Sì, è vero. Quindi non solo nella parte del divertimento, aveva voglia di cantare. Questa è una cosa meravigliosa di cantare con voi. Con il pubblico televisivo avete un altro importante appuntamento invece. Ogni domenica, che tempo che fa, e noi vogliamo guardare un filmato. Oh, che bello. Fazio? Fazio. Fazio. Io so tutte le notizie, tutte le notizie della settimana. Sì, tutte le notizie. E la notizia, ha vista la notizia importante, che il Papa, questa settimana, il Papa ha comprato un fienile. Ho comprato un fienile. Un fienile, probabilmente per fare la capanna del presepe, era stufo di affittarlo. Guardi che ha comprato, la notizia è che il Papa ha comprato un vinile. Un vinile. Vinile. Un disco. E cosa fa? Il presepe è sul disco. Quando inizia a girare cadono tutte le pecorelle, sicuro. Ma no, ma cosa sta dicendo? Ha preso un disco, un disco da ascoltare, il musica, un disco LP, 33 giri. E perché non ha preso un 45? Non so, forse perché 33 sono gli anni di Cristo. Ah, tutto torna. Eh, tutto torna. Sai che disco ha preso? Eh, boh. Sicuramente il Papa avrà preso un disco di musica classica. Certo, musica sacra magari. Sacra. Sant'Ana magari. Sant'Ana, o Sanremo. O Sanremo. O Sanremo, o Sanremo ogni domenica da Fabio Fazio. Ma in teatro, beh, è un grande lusso quello che abbiamo, poterci dividere fra il teatro e la televisione. Assolutamente. Rinuncereste mai al teatro per la televisione? No. No, no. Benvenuti un'esitazione. No, no, scusa, perché hai detto, pensavo che la domanda fosse rinuncereste mai al teatro e poi hai detto rispetto alla televisione. In realtà sono due mondi, come dire, ho un polistrumentista, prima lo citavi, rinuncereste a suonare i pianoforti solo per la chitarra. E sono varie espressioni, no, del nostro modo di lavorare. Poi noi siamo fortunati perché facciamo una televisione bella, l'abbiamo sempre fatta bella, abbiamo fatto una trasmissione come Zeli dove, credimi, l'ultimo pensiero era non sapevamo neanche dove fossero le telecamere perché c'erano duemila persone che pagavano il biglietto. Quindi prima cosa dovevi portarla a casa perché si andava male. e quindi non sapevamo, non abbiamo mai, cioè non mai, non siamo mai preoccupati delle telecamere. Quindi siamo stati molto fortunati a fare una certa televisione. Quindi non saprei dirti, no, vorrei far tutto. Ecco, perché non è male come idea? Anche perché voi siete un po' anche funamboli dell'improvvisazione e perché no anche dei generi di comunicazione. Funamboli dell'improvvisazione teatrale, tanto che per Rai 2 avete realizzato lo show improvviserai e per un attore quanto è fondamentale, bello e da energia e carica improvvisare? Ma è fondamentale e voglio dire perché sul palco ti può succedere qualsiasi cosa, cioè da un problema tecnico oppure dalla voglia di... Poi abbiamo la fortuna veramente che il nostro mestiere da comici sul palco, più sbagli più la gente è contenta, noi un po' meno quando ti capita e lo sai, cioè quando capita di sbagliare insomma ti dai sempre un po' un attimo di emozione forte. Però è importantissimo sapere e poi devi essere tranquillo, tanto voglio dire prima o poi qualcosa succederà. Quando si arriva a quella consapevolezza, cioè è vero che il palcoscenico, quelle tavolacce di legno sono uno spazio di libertà e quando scatta la complicità si è in due e non ho mai fatto parte di un duo. Voi dal 1995, centro teatro attivo di Milano, 27 anni, ma non vi siete un po' rotti? E continui a far così mentre lo dici? Come dire perché? L'inconscio, quello è l'inconscio che parte così ogni tanto. No, anzi il meglio deve ancora venire. Ma che meraviglia, questa è una cosa fantastica, cioè vi divertite ogni volta? Sì, perché comunque l'età conta in tutto, conta nella vita e conta anche nel lavoro, più vai avanti più hai percezione, più hai capacità di stare, cioè è un lavoro dove l'esperienza gioca tanto, quindi più vai avanti più ti diverti. Questo assolutamente sì e succede individualmente, ma io dico come coppia, come coppia sul palcoscenico. Sì, ma sai ci portiamo insomma, come stavi dicendo, 27 anni di esperienza e questo ci aiuta anche ad andare avanti, cioè l'esperienza ti aiuta anche, l'esperienza di coppia a insomma affrontare anche il futuro, insomma quindi tutto serve e tutto ci porta avanti. Poi adesso abbiamo anche la sicurezza di sapere dove andiamo a parare uno con l'altro, quindi anche il divertimento in scena magari di mettersi in difficoltà, io ogni tanto lo faccio, magari gli butto una battuta e dico vediamo come la chiude e so che la chiude, so sempre che la chiude, però provo, ogni tanto mi viene e dico vediamo un po' come ne esce da qua. Io ho avuto la fortuna di stare in scena con Paolo Villaggio, il quale a un certo punto doveva fare la pipì, per cui mi lasciava da solo in palcoscenico, i momenti più imbarazzanti della mia vita, lui diceva scusa ma se ne andava e mi lasciava davanti, vabbè era una parentesi. No, no, ma è una parentesi importante. La parentesi importante, capiamo, capiamo quell'imbarazzo, cosa vuol dire quando... In 27 anni di imbarazzo ne avrete sicuramente provato sul palco e non solo, ma in 27 anni tante cose sono cambiate, anche raccontare la comicità, parlare di satira, farla e poter parlare ancora, far sorridere ancora non è semplice. Quanto è cambiato anche questo modello di comunicazione della comicità e della satira negli anni e quanto secondo voi cambierà ancora? Ah, secondo me... Ho una domanda molto difficile e faccio rispondere a lui. No, no, non è il fatto... Io vado a fare pipì. Sai, noi facciamo... Vedi che bella mattina dovevo dire. Infatti dovevo andare in bagno. Per capire. No, infatti voglio dire, noi facciamo una satira di costume e quindi insomma prendiamo in giro noi stessi anche, prendiamo in giro gli usi e i costumi e insomma le modalità in cui ci si pone in questo mondo. Però è sempre più complicato farlo. Sì, guardi, dico sempre che l'importante è non ferire nessuno, no? Cioè, allora se vuoi fare... Oggi si parlava di satira ed è vero che la satira deve sollevare dei quesiti, delle domande nella gente, ma non deve lasciare delle ferite. Tanto più in questo momento, come dicevate all'inizio, che abbiamo bisogno appunto di risollevarci, di sentirci in qualche maniera consolati, divertiti e alleggeriti. Tu prima citavi i giovani, il ricambio di pubblico, molte generazioni, voi dopo 27 anni di collaborazione avete generazioni che vi seguono. Il rapporto che avete con i giovani, con i giovanissimi? Ma l'abbiamo. Fa piacere. E come ce la avete, questo è molto bello. Fa piacere. Poi ovviamente è diverso il modo di fruire le nostre cose. Mentre prima il canale privilegiato era televisivo, adesso ti guardano soprattutto su video che vanno a riguardarsi. Magari ti fermano per una cosa che hai fatto 15 anni fa. Ormai i giovani fanno un po'... Fa ridere perché guardano a 360 gradi. Quindi ti fanno una battuta e dicono, ma guarda che l'ho fatto 15 gradi. Io sì, tra l'altro di giovani, anche perché i miei figli hanno 20-23 e la bimba 10, quindi insomma i due sono grandi. Bello. Allora ricordiamo il vostro spettacolo, è stato davvero un piacere conoscere. Grazie, è piacere mio. Per me è stato un vero piacere. Ricordiamo lo spettacolo, io non sono andato a vederlo, andrò al Teatro Parioli. E tanto fino al 27 febbraio al Teatro Parioli di Roma, noi consigliamo Comincium perché si ride tanto per tutte le due ore, oltre che fare bene allo spirito, fortifica gli addominali, ma si canta anche tanto, quindi fa bene anche alla voce. Facciamo un percorso storico che è una meraviglia. Prima di lasciarvi però posso chiedervi una cosa? No, vi devo salutare. No, se il tempo è finito è il tempo è finito. Salutate gli amici del caffè che vi seguono. Amici del caffè, poi lui ne beve 12 al giorno. Ah, giusto, mi faccio un caffè. Lui si fa il caffè. Oh, volentieri. Guarda lui. Adesso ve lo portiamo, è sempre lui, è sempre lui, lo portiamo anche a voi. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Sempre non offre, ma non offre.